Costeggiano il litorale che da Punta Rai si porta a Palermo, nel cuore della stagione estiva, e a toglierli da lì non c'è nessuno. L'emergenza rifiuti è arrivata al culmine e se da un lato c'è chi pensa al danno ambientale ed economico, dall'altro si gioca a scarica barile. L'assessore Vania Contrafatto non potrà più nominare i commissari né proporli, a deciderlo il governatore Rosario Crocetta, che se ne occuperà personalmente, con il dirigente del Dipartimento Acque e Rifiuti. Sempre Crocetta ha indetto un incontro urgente con i sindaci del Palermitano, ai quali si impedisce di conferire i rifiuti nella discarica di Bellolampo, convocando anche i responsabili di quest'ultima, insieme a quelli delle discariche di Lentini e Siculiana. Ho emesso un'ordinanza ai primi di giugno che non viene rispettata, ha lamentato il governatore. La RAP si rifiuta di far scaricare altra immondizia. Il presidente della regione ha poi ricordato che la RAP dipende dal comune guidato dal sindaco Orlando, che da un lato organizza le proteste e dall'altro ostacola la soluzione del problema. Ma il sindaco di Palermo sembra non essere dello stesso pensiero. Cittadini e amministrazioni comunali, ha affermato, sono le vittime di un sistema al centro di interessi privati e speculativi. Orlando, inoltre, ha difeso gli accordi presi con la RAP, unico impianto pubblico operante in Sicilia, che tratta 750 tonnellate al giorno di rifiuti. Non consentiremo che posizioni e attacchi del predetto assessore e del governo regionale, ha dichiarato, mutino l'attuale e rinunciabile gestione pubblica.